Musica Quali prospettive per la polizia locale? Questa è la domanda principale del convegno tenutosi ieri nella sala conferenza algherese dello quartè. Molte le autorità presenti all'iniziativa tra cui il neo sindaco di Alghero Mario Conoci e il questore di Sassari Diego Buso. L'auspicata riforma della legge quadro della polizia locale e dei regolamenti di polizia urbana ha tenuto banco durante la discussione. Di grande rilievo l'intervento del procuratore della Repubblica al Tribunal di Sassari Giovanni Caria che ha affrontato un tema urgente per il ruolo giornaliero della polizia locale nell'attività giudiziaria come la riforma della legge 65 e dei decreti sicurezza. La normativa appare ormai datata e la distribuzione degli agenti sul territorio non omogenea. Il decreto legge del 2018 ha rappresentato un passo avanti in materia ma non considera ancora l'impellenza di una vera e propria riforma. Il convegno ha voluto quindi spronare il governo e il Parlamento per una collocazione definitiva del corpo e di conseguenza garantire la sicurezza urbana, preziosissimo bene della comunità. Nella 36esima giornata di studi sono stati attribuiti anche alcuni premi, tra cui quello alla memoria di Felice Serra. Il riconoscimento è stato assegnato alla polizia locale di Sassari per la migliore operazione. Gli agenti hanno infatti assicurato alla giustizia due cittadini italiani, autori di numerosi furti commessi in un arco di tempo ristretto. Tutela del lavoro e comunicazione, questo è il titolo del seminario organizzato dalla CISL Funzione Pubblica Provinciale, ospitato ieri nella sala conferenze della Promocamera di Sassari. L'Assemblea ha visto la partecipazione di circa 150 persone, tra RSU delegati e iscritti. I lavori sono stati aperti dalla Segreteria Generale del Sindacato Gianfranca Solinas e Armando Ruzzetto, le cui relazioni sono state incentrate sulle iniziative di carattere formativo. Una platea qualificata ha seguito i lavori insieme al Segretario Generale Confederale della CISL di Sassari, Pierluigi Ledda e Davide Paderi, in qualità di Segretario Generale Regionale della CISL. La giornata è proseguita con gli interventi di alcuni docenti delle Università di Sassari e Roma. Riccardo Porco ha parlato di comunicazione e cambiamento e Carmine Russo ha ripercorso oltre 40 anni di storia sindacale, con particolare riguardo alla CISL. Al dibattito è intervenuto Gavino Carta, Segretario Generale Confederale della CISL Sarda. Le conclusioni sono state affidate al Segretario Nazionale della CISL, Maurizio Petriccioli, che ha fatto il punto sull'attuale situazione politica nazionale, in previsione dei rinnovi contrattuali e della riforma della pubblica amministrazione. Petriccioli si è inoltre soffermato sull'importanza della formazione dei quadri e dei dirigenti sindacali, ricordando che simili iniziative, come l'aggiornamento e la consapevolezza del sapere, e soprattutto far bene il sindacato, sono fattori su quali un'organizzazione che rappresenta il lavoro deve investire sempre di più. Le imprese del comparto caseario devono puntare sull'innovazione tecnologica per essere competitive sul mercato e migliorare le loro performance. Lo sostiene l'assessore regionale all'industria, Gabriella Murgia, intervenendo al workshop organizzato da Agris Sardegna, che si è tenuto nella sede dell'agenzia Bonassai Sassari. Nel corso dell'incontro, introdotto dal direttore facente funzioni di Agris Gianni Piredda, è stato presentato il nuovo caseificio sperimentale, che grazie alla ristrutturazione e al rinnovo completo delle attrezzature, può contare su un laboratorio di tecnologia casearia all'avanguardia. I nuovi impianti, ha spiegato l'esponente della giunta Solinas, sono funzionali ai più recenti orientamenti nel campo della ricerca e saranno indispensabili per creare un polo di riferimento nel settore ovicaprino, anche offrendo formazione altamente qualificata di tecnici e maestranze. Così, aggiunto Gabriella Murgia, l'industria casearia sarda potrà avere le competenze necessarie per accelerare l'introduzione delle nuove tecnologie, aumentando l'efficienza e l'eccellenza della propria produzione. Indagare il giornalismo in maniera differente e innovativa, partendo dalla produzione letteraria, è con questo spirito che si è aperta ieri nel piazzale della Basilica di Saccargia, in comune di Codrongiano, sulla tre giorni del Festival Liquida. Un evento organizzato da Liberos e finanziata dalla regione Sardegna. Si è iniziato alle 16.30 con Sergio Rizzo, autore di La Memoria del Cricetto, che ha dialogato con Celestino Tabasso, presidente dell'Associazione della Stampa Sarda. I due professionisti dell'informazione hanno analizzato le news, cosiddette liquide, alle quali occorre contrapporre un pensiero critico, fornendo all'utente la capacità di discernere, di scrivere le insidie delle fake che creano confusione e diffidenza nella buona informazione svolta da giornalisti competenti e consapevoli. Nel corso della serata si è parlato della precarietà della professione, della scarsa retribuzione. La serata, dopo vari interventi, si è conclusa con la proiezione del documentario Il grano e la volpe con Raffaele Manca e Francesco De Plano. Oggi si inizia alle 18 con il Pink Tank, Donne al potere, potere alle donne, con Serena Marchi. Quindi si alterneranno sul palco i giornalisti Flavia Perina e Luca Telese, in chiusura al concerto dei Sichi con il loro Nave Madre. Domenica, terza giornata del Festival Liquida, si inizierà alle 19, sempre a Saccargia, con la documentarista Lisa Camillo sul tema l'isola che non c'entra. Seguire Pino Corrias parlerà di un viaggio tra i misteri dell'Italia. Chiuderà la manifestazione Saverio Tommasi in anedoti e curiosità spinte sul mondo dell'informazione. Presentata ieri a Sassare per la prima volta assoluta in Sardegna, la farsa musicale Il cappello di Paglia di Firenze, primo titolo in cartellone della stagione lirica 2016 del lente concerti Maria Lisa De Carolis. Sei minuti di applausi che hanno salutato Il cappello di Paglia di Firenze. Il compositore Nino Rota, scomparso 40 anni fa, è famoso per le immortali colonne sonore di decine di capolavori cinematografici, tra questi i film di Federico Fellini e i primi due capitoli del Padrino. L'opera composta nel 1945 debuttò al Teatro Massimo di Palermo dieci anni dopo. L'allestimento messo in scena al Comunale di Sassari proviene dalla Fondazione Teatro di Pisa dove ha riscosso ottime critiche con la regia fidata a Lorenzo Maria Mucci, le scene di Emanuele Sinisi e i costumi di Massimo Poli, incisivo, come sempre, il disegno lucido di Toni Grandi. Un palco follato con protagonisti quasi tutti sardi a partire dal soprano Elisabetta Scano che interpreta la sposina Elena. Giovane il tenore Mauro Seci nella parte dello sposo Fadinard, con vincente Francesco Leone, il suocero bisbettico e la graziosa Ilaria Vanacore, la moglie infedele di uno strepitoso beau portui interpretato dall'applauditissimo Marco Bussi. Una commedia irriverente ironica con diversi colpi di scena in un continuo gioco dell'equivoco. Ma alla fine tutto si risolverà per il meglio il cappello di paglia mangiato da un cavallo e che avrebbe potuto metterne in guai una signora libertina a pare tra i regali di nozze e la coppia potrà coronare il suo sogno d'amore. Il suocero darà la benedizione e il marito tradito riporterà a casa la pecorella smarrita. L'orchestra del lente concerti è stata diretta da Federico Fanti con il coro del lente Maria Lisa De Caroli squidato da Antonio Costa. Si replica domani alle 16.30 sempre al Teatro Comunale. L'arte è di tutti e il ballo si iscrive da sempre nel DNA della specie umana. Alessandro Pontremoli docente universitario presidente della commissione consultiva danza del MIBACT rompe con gli schemi paludati del pensiero sulla performance presentando il suo ultimo libro. La circostanza dello shock comunicativo è quella dei pranzi con l'autore organizzata ieri da Danza Eventi in occasione del festival Corpi in Movimento. Il contenitore, pieno di testi che fanno da spalti i cartacei al simposio attualizzato la libreria Max 88 che s'apre al connubio di cibo e cultura offerto ad addetti ai lavori e non. Pontremoli da anni si fa portavoce e testimone di una realtà performativa in continua evoluzione dove lo spettatore chiede e compie il passo finale dalla platea al palcoscenico. Al pubblico non interessa più la visione vuole solo partecipare sostiene lo studioso. A maggior ragione in Italia paese all'avanguardia non solo nella qualità coreografica ma anche nell'incremento costante dell'audience e di scuole di danza più numerose, scherza ma non troppo pontremoli dei medici di base. Concetti esposti dallo storico milanese con un linguaggio chiaro e talvolta affilato nel libro La Danza 2.0 il cui valore indiscusso è confermato dall'utilizzo come testo curricolare negli istituti superiori coreutici. Proprio gli studenti di liceo Azzuni saranno protagonisti stamattina di un incontro con lo scrittore nella sede di Via De Carolis. A pranzo con l'autore ha rappresentato un importante punto di confronto non solo per i commensali spettatori ma per lo stesso scrittore. È stato emozionante una sorta di cenacolo con persone desiderose di ascoltare quello che avevo da dire ma anche portatrici di tante idee di tanti stimoli che mi hanno reso felice un momento di felicità di serenità e di buon cibo che ovviamente non guasta e fa parte della cultura di questa terra come di gran parte della cultura italiana. La Dinamo è un valore assoluto per tutta l'isola. Le parole con cui ieri a Villa Devoto il presidente della regione Solinas ha accolto a Cagliari la squadra sassarese non lasciano dubbi. I giganti del banco occupano ormai un posto speciale nel cuore di tutti i sardi. Il presidente Sardara e il team bianco-blu al completo hanno portato nella sala lussu gli ultimi due trofei conquistati la Europe Cup e la Supercoppa vinta domenica scorsa a Bari. Lo stesso Sardara si mostra felice per i successi e l'entusiasmo che circonda la squadra. Per noi è motivo di fierezza ma sentiamo anche la responsabilità di rappresentare al meglio l'isola e siamo orgogliosi di farlo. Intanto nella conferenza stampa di stamattina al Clubhouse di Sassari Gianmarco Pozzecco fa il punto della situazione in vista del secondo turno di campionato programmato domani al Palaserra di Migni contro Pesaro. Il coach friulano loda l'impegno dei suoi giocatori impegnati quotidianamente a bruciare i tempi per raggiungere l'affiatamento da lui richiesto. In particolare Pozz cita le prestazioni di Pierre miglior giocatore in campo giovedì e di Stefano Gentile autore di una grande partita all'Energsegnia di Masnago. La prima gara casalinga è però già alle porte e non bisogna prendere sotto gamba il giovane avversario marchigiano. La forza del gruppo allenato dal neo coach Perego avrà bisogno di essere arginato da una dinamo in palla. Se fin dall'inizio riusciremo a dimostrare che siamo tosti e mettiamo la partita su determinati binari credo che riusciremo ad arginare questa loro spinta ha commentato Pozzecco. Grazie a tutti. Grazie.